Sono passati 15 anni dalla morte per mano di guerriglieri in Uganda di padre Raffaele Di Bari, missionario barlettano che ha dato la sua vita per salvare i bambini soldato. Anche quest'anno la città ha voluto ricordarlo dedicando alla sua memoria il settimo convegno missionario diocesano, dove è intervenuto anche padre Alex Zanotelli. Il primo ottobre ricorre l'anniversario, il quindicesimo dell'uccisione in Uganda, del missionario combognano barlettano, padre Raffaele Di Bari. Anche quest'anno la città di Barletta ha voluto ricordarlo dedicando alla sua memoria il settimo convegno missionario diocesano. La vita e la fede dei missionari è di padre Raffaele Di Bari al centro dei racconti di molti giovani e della riflessione di padre Alex Zanotelli, dal titolo Abbiano vita in abbondanza. Don Ruggero Caporusso invece la testimonianza diretta dell'opera dei progetti in corso in Uganda, memoria di padre Raffaele perché la sua morte, dice, non sia vana. Ricordando padre Raffaele, ero molto amico suo, fra l'altro l'ho visto l'ultima volta in un viaggio che abbiamo fatto di notte quando sono venuto nell'86, se non mi sbaglio a parlare a Barletta, ero direttore di Negrizia, e l'impressione che ho avuto di un uomo appassionato della sua gente, che aveva voglia di camminare con la gente, di dare vita, ecco il concetto della vita. Era un uomo appassionato di vita, la sua denuncia sui sopprusi contro i diritti umani era proprio la vita. E in questo senso che mi è venuto in mente il testo di Giovanni, Dio è il Dio della vita, che ci ha inviato Gesù perché abbiamo vita e l'abbiamo in abbondanza. Io penso che in un contesto missionario oggi, la missione diventa globale, dobbiamo ricordarci che viviamo in un mondo che non è più un mondo di vita, ci sta portando alla morte, sia in chiave economico-finanziaria, sia in chiave militare con la guerra, il Papa ci ricorda sia in chiave ecologica. Per cui penso che la missione oggi vuol dire annunciare il Dio della vita, ma poi impegnarci perché la vita vinca. Inizia il mese delle missioni, il primo ottobre, Santa Teresina e il bambino Gesù. Nel 2000, precisamente, nella giornata di oggi, veniva canonizzata, santificata, la prima santa donna africana, Santa Bachita. E anche da Luganda c'era una grossa rappresentanza qui a Roma per la santificazione. Viene lasciato solo parere Raffaele perché ha da fare, ecco, un discorso pastorale, battezzare, celebrazione di messa. E mancanto confratelli, hanno approfittato di far zittire una voce. La voce degli ultimi, la voce di chi non ha mai gridato, non avrebbe mai gridato, non ha la forza, non ha avuto la forza di gridare. E si tratta, in modo particolare, di famiglia di cui sono stati sottratti i bimbi, rapiti i bimbi, perché pare Raffaele di Bari ha dato al mondo la possibilità di far conoscere il problema dei bambini soldati da parte di Luganda, insieme all'agenzia missionaria MISNA, guidata da padre, all'epoca, di padre Giulio Albanese. E' un'imboscata sulla sua camionetta, insieme a una suore e a giovani, che dovevano animare quella celebrazione del battesimo. Non sappiamo se la gueriglia o il governo, questo non è chiaro ancora, ma insomma la gente del posto ha le idee chiare. Viene sparato, viene bruciato, le immagini sono molto forti, prese anche dal libro L'Oriva Moi, foto anche pubblicate con il permesso della famiglia, perché sono davvero molto forti. Oggi pare Raffaele di Bari continua perché il seme è stato gettato, con le adozioni a distanza, da parte della nostra diocesi di Trani Barletta-Biceglie e soprattutto questa giornata è ricordo che viene dalla testimonianza, della vita, della vivacità dei bambini, della scuola elementare, pare Raffaele di Bari a lui dedicata qui a Barletta.